Etichetta della vostra mente attraverso attilio m vocedellacuiete.vaianocchiocciola.gmail.com Una voce Vi abbiamo detto che nel totale silenzio interiore nulla c'è da aggiungere, nulla da completare e nulla da migliorare di ciò che è. Anche sul divino mettete il vostro marchio facendolo diventare quell'essere puro etichetta della vostra mente perché lo contrapponete con quello che considerate impuro altra etichetta. Nella vita tutto è riflesso del divino e non c'è né puro e né impuro. Attenti alle contrapposizioni che fate perché la vostra mente vi inganna. La vita è unità e sono i frammenti che concorrono a formare la totalità anche se vivendo nel relativo la limitazione spazio-temporale vi fa vedere solo i frammenti e mai l'unità. Grazie a tutti.